Sono amico in linea, prendiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, ciao Enzo, sono Mario, un saluto agli ospiti. Ciao Mario, ciao Mario. Che bello lo sguardo di Grandolfo, bello, pulito. Ha secondo me si è emozionato più davanti ai microfoni che domenica a scendere in campo, bellissimo. Io ho invidiato tanto i tifosi del Lecce domenica, perché vedere il presidente lì che tremava a bordo campo, che festeggiava, che aveva la felpa del Lecce addosso, io ho provato un'invidia, e esagerato, veramente mi sono sentito, stassi in un giorno mai potremmo vedere una cosa del genere. Chiudo subito, anch'io preferisco il falimento, perché io preferisco più lasciare mia moglie, anche se sono innamorato, però preferisco lasciare non sapere che mi tradisce sistematicamente ogni volta che io mi allontano. Ciao, buona giornata. Che esempio, che fantasia, è un esempio di un amore proprio non corrisposto. 080-501-9998 per le vostre telefonate, insomma il tema rimane questo, meglio la sopravvivenza con Matarrese o il falimento? Questo mi sembra che è il tema del momento a Bari in assoluto. E diciamo ci sono diversi pareri, anche se devo dire che al momento, per quella che è la nostra percezione a Telebari, prevale il fronte, è incredibile, ma vero, meglio fallire che continuare con questa dirigenza. 080-501-9998, prendiamo un'altra telefonata, pronto? Ciao, sono Roberto da Bari. Ciao Roberto, ciao. Ciao, no, volevo soltanto dire che a Matarrese tutto si può imputare, tranne che la volontà, almeno negli ultimi due anni, di fare qualcosa di buono. Più che altro direi che si tratta di totale incapacità da parte sua e dei suoi collaboratori. Per cui una svolta sarebbe auspicabile. Sono d'accordo con Gallo, meglio ricominciare da capo, lasciare la mediocrità e quantomeno accendere un barlume di speranza per un qualcosa di diverso. Poi un altro punto, volevo farlo, secondo me, l'eccessiva possibilità che si dà alla tifuseria organizzata di dire la propria. Sono persone molto spesso che sono vicine a modi di fare che sono poco civili. I comportamenti della curva molto spesso non sono assolutamente da persone di questo secolo. Quello che accade in curva molto spesso è adebitabile alla loro pretesa di comandare su tutto e su tutti. Io non so se voi siete stati mai dimostrati inglese, non esiste il tifo organizzato. Il tifo è comunque una cosa fantastica. Ci sono bambini ovunque, ci sono cori che nascono spontaneamente da chi ha voglia di incitare la porta a squadra senza che qualcuno sia lì con il megafono a dire che cosa si deve cantare. Grazie per il tuo intervento. Anche se devo dire che, a meno che non abbia detto male, però i tre arresti delle ultime ore non sono legati al gruppo degli Ultra. Sono veramente i cosiddetti, fra virgolette, cani sciolti. Cioè chi va in curva ma non appartiene in nessun modo agli Ultra. Comunque, gli organi che dovevano controllare domenica scorsa, l'hanno controllato. A me mi hanno fatto praticamente un... mi hanno rovistato, un quasi spogliarello. Poi mi hanno chiesto... stavo quasi per fare discussione. Avevo una bottiglia d'acqua. Mi hanno tolto il tappo della bottiglia d'acqua, signore. E hanno fatto entrare gli steward, le forze dell'ordine, oltre quella batteria incredibile. Posso dire una cosa però, ora fermo restando che quello che dici è assolutamente giusto. Ma mi chiedo, qua si sta parlando tanto dei giocatori che avanzano soldi. A me risulta che gli steward non prendano soldi da ottobre. Correggetemi se sbaglio, se poi mi sbaglio mi dite Enzo è sbagliato e dà un'informazione. Cioè, queste gente, molti questi, vanno a fare questo servizio la domenica per 30 euro, per non so quante ore. E non stanno prendendo i soldi da ottobre. Credo che ottobre abbiano preso gli ultimi soldi, ma è me possibile una cosa del genere. Qui mi dispiace, ma la società è indifendibile da questo punto di vista. Io posso capire i calciatori, ma gente che deve portare la paghetta a casa, bisogna pagarla. Perché questa è mancanza di rispetto nei confronti della gente, della povera gente. Questo io non lo ammetto, capisco i giocatori. Tanti giocatori sono tutelati, prendono soldi, tanti soldi. Ma 30 euro a domenica. Alcuni prendono 30 euro. E non si pagano questi. Ma stiamo, anche a rimetterci di tasca mia. Se avessi la possibilità, se avessi ovviamente la responsabilità di questo, io li pagherai. Dove essere sincero. Parlando al problema di Mazzarri, che purtroppo Don Vincenzo di calcio non è molto competente. A differenza di Cellino e Zamparini, che sono competenti. Quindi hanno un confronto quotidiano con il direttore sportivo e il direttore generale. Anche su fatti meramente calcistici. Mentre lui giustamente si fida del colpatore Angelotti, di Regalia e che si voglia. E quindi molte volte è spiazzato dinanzi a dei blef di calciatori. Questa purtroppo è la differenza che io colgo rispetto a Cellino e a Zamparini. Stop. Abbiamo finito. Ricorda l'appuntamento, Dardo, velocemente domani. Sì, velocemente domani. No. Kofit a Mogivacca. C'è il quadrangolare con noi. Ringrazio. Colgo l'occasione per ringraziare Gennaro Di Mario al secolo il baffone. Perché ci ha dato una mano per reperire il materiale. Grazie. Grande baffone. Ciao ragazzi, a domani. Grazie a tutti.